Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove c'è un chilometro di coda per un incidente tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta, in direzione Bologna. Fino all'8 dicembre è tratto chiuso per lavori al chilometro 0 della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della Fippili, per una frana avvenuta al chilometro 79 865 proprio della Fippili. Statale 64 Porrettana, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina. Per i treni, dalle 16 di sabato fino alle 4 di lunedì mattina, sospesa la circolazione sulla linea Bologna-Prato tra Pianoro e Prato, servizio bus sostitutivo al posto dei regionali. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!